Il Monte Silvano vince lo scudetto della Serie A femminile. La squadra abruzzese torna sul trono d'Italia a cinque anni dall'ultima volta. Al termine di una gara 3 durissima di incecco e compagnie si impongono 3 a 2 al pala badiali e spugnando per la seconda volta nella serie delle finali il campo del falconara che mai in stagione aveva conosciuto la sconfitta delle sue beniamine. Pronti via è la solita pato dal maz sulla scia di gara 2 a mettersi in proprio rompendo l'equilibrio. La risposta di mister Sant'Angelo è sorprendente, subito portiere di movimento con Borges. In città di falconara non si fa sfuggire la mossa trasformandola in una grande opportunità. Chiude tutti i varchi e contati approfitta della porta sguarnita per siglare il 2 a 0 dopo appena tre giri di lancette. Il Montesilvano fatica ad uscire fuori dai minuti da incubo del primo tempo ma ci riesce comunque prima della sirena riprendendo il possesso della partita. L'avvio della ripresa però è folgorante. Il Montesilvano realizza due gol in 9 secondi. Il primo è una prodezza di Alessia Guidotti, l'altro della ex Aida Sciascio, una delle migliori della serie delle tre finali per le ragazze di Sant'Angelo. La partita rimane bellissima ma il gol del Montesilvano è nell'aria. Lo realizza il capitano Ersilia Dincecco al termine di un calcio piazzato sbucando da sola. Indisturbata sul secondo palo il gremito pala badiali di Falconara è ammutolito, ghiacciato. Il Montesilvano è granitico, si chiude in difesa, regge l'urto davanti all'assalto del Falconara e il fortino abruzzese tiene anche quando nona viene schierata come portiere di movimento. Più forte delle assenze pesantissime di Amparo e Jessica, più forte di ogni cosa. Dopo il titolo del 2016 il Montesilvano fa saltare il fattore campo, annienta la grande corazzata della stagione e riporta il tricolore in Abruzzo salvando così la stagione intera del futsal abruzzese. Bruna Borges la migliore, la MVP della finale di gara 3 a Falconara. Altra favola nella favola, quella di Gonzalo Sant'Angelo, pochi giorni prima di andare a giocare gara 3, aveva perso il papà in Argentina, non ha detto nulla alle sue ragazze e alla società, si è presentato al palazzetto tenendo il dolore chiuso dentro il petto, poi a fine partita sono esplose le sue lacrime di gioia ma anche di tristezza per la perdita del papà al quale ovviamente ha dedicato questo scudetto che resterà nella storia del futsal italiano e ovviamente abruzzese.